E una buona domenica a tutti cari amici, ben ritrovati, è una domenica speciale dopo le elezioni americane, abbiamo assistito a una vittoria schiacciante naturalmente di Donald Trump che si porta a casa Camera e Senato, quindi avrà libertà praticamente totale anche su nomine, qualsiasi cosa importante potrà farla, quindi una vittoria schiacciante, credo 315 mi sembro o 312 grandi elettori, più di 5 milioni di voti di differenza, è una vittoria veramente schiacciante, cosa hanno sbagliato i democratici? Sicuramente aver candidato Kamala alla fine, perché parliamo di luglio, in cui Biden si ritirava e aver nascosto che Biden avesse comunque dei problemi a livello proprio fisico. Questo è un grosso problema e l'hanno pagato caro e tante piattaforme, ricordiamoci che Kamala Harris ha avuto anche più investimenti, cioè la campagna elettorale di Kamala è costata molto di più rispetto a Trump, quindi il paese americano ha votato in maniera netta e chiara e questo adesso ci porta degli scenari, a noi che facciamo trading, siamo investitori, comunque sui mercati direi comunque lo stesso interessanti, perché comunque noi andremo avanti con i nostri piani di accumulo, cambieranno delle situazioni, adesso andiamo a capire che cosa porta Trump, che abbiamo già visto come presidente degli Stati Uniti, quindi non è una persona nuova e sappiamo bene o male dove andrà a portarci. Allora sicuramente vedendo un po' casa Europa, casa Italia, io chiamerei e farei un titolo di questo genere, Europa se esisti dopo 24 anni, adesso mi pare nel 2002-2004, quando è nata, adesso non so esattamente, però sono 20-24 anni di nulla per il momento, ok l'aria Schengen, ok queste cose qui, bellissime, però poi a livello pratico di economia poca roba, quindi se ci sei batti un colpo perché Trump andrà ad essere molto aggressivo con l'Unione Europea, quindi è un po' finita l'era del protezionismo americano nei confronti di un'Europa incompiuta e che non riesce a farne una giusta perché di quello stiamo parlando e quindi vedremo tante situazioni per quanto riguarda l'Europa che si dovrà svegliare, Italia in primis, io non so se Trump vorrà fare veramente dei dazzi, però ragazzi qua bisogna iniziare a svegliarsi, c'è di iniziare a cambiare un po' registro perché altrimenti si va veramente a uno sfascio di Unione Europea, quindi questo sicuramente sarà uno dei temi, Trump porterà sicuramente delle tasse più basse per quanto riguarda la corporate tax, io credo che questo lo farà, e poi c'è tutto il tema e questo porterà comunque il Russell 2000, guardatelo qua che ce l'ho nel grafico, a salire, quindi potrebbe essere un Trump trade, visto che adesso vanno di moda chiamarli Trump trade, Russell che è vicino ai massimi del 2021 e quindi potrebbe avere tanto spazio. Il Russell sono le piccole e medie imprese americane, quindi questo potrebbe agevolare questo indice con la vittoria di Trump, poi sicuramente un altro Trump trade è il dollaro peso messicano che ha fatto un movimento incredibile, guardate qua il daily, fiammate nella giornata delle elezioni, poi ha stornato, però potrebbe venire su in maniera importante, il dollaro contro il peso messicano e questo è un altro Trump trade, poi c'è la sua azienda, comunque l'ultima creata sui social, poi sicuramente c'è tutto il tema Musk, perché Musk è all'interno, praticamente del governo, adesso non so che figura avrà, ma è pesantemente dentro, quindi tutto quello che riguarda Tesla, SpaceX, cioè veramente social, rischiamo che comunque abbia un peso importante all'interno dell'America, tutto quindi il comparto anche che riguarda Elon Musk potrebbe agevolare in maniera pesante, impattare i mercati, quindi potremmo avere occasioni per comunque portare a casa dei bei profitti, anche su questi tipi di settori. E poi c'è tutto il tema della Federal Reserve, ragazzi, perché io non ho mai visto un presidente della Federal Reserve come Jerome Powell, così sotto pressione, perché lui è entrato in conferenza stampa, mi pare giovedì, sì giovedì era, o mercoledì, giovedì, e ha detto io non mi dimetto, quindi capite bene che c'è una forte pressione per Trump di licenziare Powell e cambiare le regole della Federal Reserve, in cui il governo centrale sia più, diciamo, dentro le decisioni della banca centrale, che secondo me diventa un rischio, perché poi l'abbiamo visto anche in Turchia, con Erdogan, che ha deciso praticamente lui le politiche monetarie in Turchia, e abbiamo visto il disastro della Turchia. Io non credo che l'America e Trump voglia fare disastri come in Turchia, però io credo che le due cose debbano essere distinte, invece Trump vorrà cambiarle, questo sicuramente metterà pressione a Powell e alla Federal Reserve, io credo un grande scontro tra i due, quindi anche lì ci sarà volatilità e forti pressioni per far sì che le politiche monetarie rimangano espansive, però poi c'è tutto il tema dell'inflazione, perché se le politiche sono espansive, poi l'inflazione potrebbe ripartire in maniera importante. Quindi sono veramente tantissimi temi, poi c'è la Cina, guerra commerciale pesantissima, c'è il tema Russia-Ucraina, forse quello potrebbe essere abbastanza risolto in maniera rapida, però credo che intorno a un annetto non ce la porteremo indietro lo stesso, e poi attenzione anche a Israele, perché comunque Trump si è mostrato molto vicino a Israele e alle politiche che sta facendo, quindi vedremo anche lì quello che succederà, visto che comunque Trump con l'Iran non è che vada così d'accordo. Quindi sarà un bell'anno e poi i dolci si infundo naturalmente tutto il tema cripto, il cripto, bitcoin, in auge, perché comunque Trump ha dichiarato di essere il presidente dei bitcoin, delle cripto e vuole aumentare la riserva anche americana. Capite che è uno stravolgimento totale, quindi i temi sono tantissimi, moltissimi, ci saranno occasioni veramente uniche di portare a casa profitti, e quindi io vi invito anche a seguirci, perché chi ci ha seguito anche quest'estate avevamo detto di occasioni incredibili, quando ad agosto la borsa scese di parecchio, un 8-9% tra tutto, e siamo sui massimi, dopo andiamo a vedere i grafici, siamo a 6.000 di S&P 500, quindi le occasioni ci saranno, io credo anche a degli storni per l'anno prossimo, e dobbiamo essere pronti, però quando? Dobbiamo prepararci già adesso, cari amici, quindi i piani di accumulo, tutto quello che riguarda i software passivi, tutto questo noi dobbiamo essere già pronti, quindi io sotto qui vi lascerò un link, in modo che potete prenotare un check-up con noi, solo persone che hanno almeno sui 5K, quindi 5.000 liquidi, altrimenti difficilmente riusciamo ad aiutarvi, e portarvi a casa comunque degli ottimi risultati, perché le occasioni saranno veramente tante, 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 perché è un presidente comunque che in un modo o nell'altro porta scompiglio, porta occasioni, porta business, e questo agevola la volatilità, e noi trader o comunque investitori, comunque abbiamo molte occasioni di lavorare. Quindi partiamo un po' dai grafici, brutta botta anche per Meta, perché Meta, uno dei membri di Meta del board, ha sponsorizzato pesantemente Kamala Harris, quindi io credo che questa è una botta pesante per il mainstream, per le società che fanno sondaggi, perché tutti davano comunque un test a test, invece qua è stata una debacle totale da parte di Kamala, e questo comunque porta a fare delle riflessioni su tutto quello che è il mainstream e comunque tutti questi sondaggisti che non ne hanno azzeccata mezza. Quindi attenzione, perché questo veramente potrebbe essere un cambio veramente epocale, oltre ai mercati, ma anche nella testa proprio delle persone che hanno visto dei risultati nettamente diversi da quelli che tutti davano. Addirittura non ricordo che agenzia dava cinque punti di vantaggio su Kamala, cioè invece è stata un disastro. Quindi potrebbe esserci una nuova era. Non voglio dilungarmi troppo, andiamo a vedere l'Europa. L'Europa è messa male, mi devo dire la verità a livello economico, e anche gli indici secondo me con Trump potrebbero avere una brutta botta. Non dico ha dei crolli, perché non ci credo per il momento, però non vedo quella forza che l'America ha in questa fase. Quindi vedo un'Europa un pochino più lenta e più in una fase discendente. Questo è l'S&P, l'Eurostox. Come vedete, negli ultimi giorni molte candele rosse di vendita. Secondo me è proprio dovuta a questo, un po' di timore da parte degli investitori sull'Europa di questa elezione di Donald Trump. Quindi il mercato su un grosso supporto in area 4.800, ma io credo che potremmo andare a farci un giro sotto intorno ai 4.700 e 4.635. Invece a livello di resistenze siamo sui 5.000, non ci sono grosse resistenze prima, ci sono delle piccole resistenze, che è una ai 4.880, quest'area qui, poi qualcosina sui 4.949, ma non sono resistenze enormi, quindi qua c'è tanto spazio eventualmente se dovesse venire sul mercato per poi tornare al vero livello che è in area 5.000 a mio avviso. Però non è messo benissimo. Andiamo a vedere il Nasdaq, Nasdaq fortissimo, spinto da Tesla e da tutto il comparto tech che continua a spingere parecchio, forse Meta quella che ha risentito un po' di più proprio per quel motivo che vi dicevo prima, che era un po' più vicino a Kamala ed è più vista come una piattaforma mainstream rispetto a X e il resto dei social e questo ha spinto comunque lo stesso Nasdaq sui massimi, ma soprattutto Tesla che ha guadagnato parecchio e potrebbe ancora giovare molto dall'elezione di Donald Trump. Quindi abbiamo un'area di resistenza intorno ai 22.000 sicuramente e dei supporti iniziali a 20.670, a 20.315, però il trend ragazzi è sempre rialzista per il momento per quanto riguarda il Nasdaq. Poi parliamo un po' di euro-dollaro perché comunque con l'elezione di Donald Trump subito si è visto nella notte di mercoledì un forte dollaro, un dollaro forte e sarà da capire questa cosa perché comunque questa è un po' una cosa che a me fa strano perché comunque ok il dollaro è forte, però se poi vogliamo fare politiche espansionistiche e tutto non so il dollaro se potrà rimanere così forte. Qua il problema credo che sia proprio che le altre valute stiano veramente molto male e quindi non è una vera e propria forza di dollaro ma è che le altre valute sono messe proprio male e il dollaro quindi rimane la meno venduta e la più comprata proprio perché le altre valute sono veramente in una situazione che non piace a nessuno quindi perché uno dovrebbe comprare euro in questa fase dove c'è una chiarezza e una visione e quindi si compra dollari che rimane comunque un asset di tutto rispetto quindi euro dollaro che rischia comunque di scivolare ancora intorno all'area 1.06, 1.05, 13 l'unica speranza è rivedere queste aree di 1.08, 20 per poi rivedere un 0.9, 37 però molto molto complesso per il momento io vedo ancora un euro dollaro che può scendere in maniera importante per quanto riguarda invece il DAX andiamo a vedere il DAX come è messo non è messo anche lui benissimo nel senso che nell'ultima giornata sta soffrendo un pochettino è messo meglio dell'euro stocks sicuramente però ormai siamo veramente in una fase laterale che dura da tantissimo da ormai fine settembre dove i 19.000 sono l'area dove tende sempre a rimbalzare il DAX però sopra i 19.500 non riusciamo ad accelerare quindi è una fase lenta interlocutoria forse si attendeva un po' le elezioni americane però è ancora ragazzista ragazzi però io vedo l'Europa un pochino più debole con l'elezione di Donald Trump questo lo vedremo poi nei prossimi mesi non adesso dove c'è euforia e i mercati sono abbastanza diciamo euforici quindi il mercato può essere un po' più diverso da quello che sarà nei prossimi mesi S&P 500 a proposito di euforia vola sopra i 6.000 e c'è poco da dire ragazzi anche qui grossa forza entusiasto il mercato rimane molto fedice di queste elezioni americane per il momento quindi si festeggia in maniera importante ha ancora spazio sicuramente e anche fino ai 6.175 in questa fase e tutti i supporti come vi dico ormai da mesi sono sempre occasioni di acquisto pensando che era arrivato a 5.000 ad agosto siamo a 6.000 e capite bene che è un mercato come potete vedere che fa un'estensione del 18% da minimo a massimo in due mesi no agosto settembre tre mesi quindi capite bene io non so chi chi ci ha seguito con i piani di accumulo che abbiamo fatto delle live di emergenza ad agosto dove dicevamo attenzione ragazzi queste sono solo occasioni qua è un più 18 io non so quanto vi possono dare investimenti in banca o comunque in altre cose qua 18% in tre mesi ragazzi mettete 100.000 euro facciamo un esempio grosso sono 18.000 euro in tre mesi cioè sono risultati spaventosi e coi piani di accumulo ancora più alti perché chi ci segue da 3-4 anni comprava l'S&P a 3.000 a 2.500 di tanta roba e andiamo a vedere poi la sterlina sterlina che ha abbassato i tassi adesso si rimane un po' nel limbo diciamo che sta resistendo un attimino più dell'euro però è comunque messa male anche lei la sterlina e io credo che abbiamo dei supporti da rivedere in area 27.5 27.50 quindi credo un trend ancora un pochino ribassista l'unica speranza della sterlina è l'accelerazione sopra 1.30 78 allora se superiamo se dovessimo superare 1.30 78 vediamo 1.31 76 velocemente allora da lì qualche scenario potrebbe cambiare ma finché stiamo al di sotto di 30.78 per me la sterlina vede più delle discese ok poi andiamo al gold il gold che sta tenendo bene comunque dopo le elezioni è sceso è vero perché stavamo a 27.45 però molto bene anche la tenuta che era un'area un po' fondamentale quest'area di 26.41 io credo che per il momento il gold potrebbe tendere un pochino più a scendicchiare in queste prossime sedute perché magari il mercato vede magari ha delle risoluzioni per quanto riguarda le guerre anche se io non ne sono così convinto nel breve termine perché ripeto le situazioni non sono così semplici come tutti le vogliono far passare quindi è ok la Russia e l'Ucraina che potrebbe sbloccarsi ma il resto potrebbero anche accentuarsi quindi vedremo quindi il gold per il momento potrebbe essere comprato meno ma è solo potrebbe essere una fase questa poi dollaro canada ha sparato su in maniera importante forte il dollaro e dollaro canada comunque sale io mi aspetto qualche discesa su dollaro canada da qualche settimana in realtà perché comunque non vedo dollaro canada che possa salire per delle tensioni di borse eccetera eccetera quindi mi aspetto una correzione vista la salita comunque imperiosa che è stata fatta dal minimo del 25 settembre è un più 4% che per le valute diciamo è tanta roba soprattutto comunque una valuta importante come quella canadese vedremo però la situazione è abbastanza questa in questo momento il trend è rialzista però attenzione è rottura di 1,38 e 21 al ribasso quella potrebbe essere un'area chiave dove possiamo rivedere dei recuperi in area 37,5 e poi 36,78 chiudiamo quindi con il Dow Jones anche lui scatenatissimo ormai 44.000 tocchiati e si punta qua ormai 45 quando siamo arrivati a 40 non ci credeva nessuno qua ormai si punta il 45 il 50 ormai non c'è una una fine di questo movimento rialzista per il momento però a parte gli scherzi i livelli sono sempre questi 43.300 adesso come supporto però il mercato rimane forte e c'è ben poco da dire per il momento vedremo ripeto il primo semestre quello che accadrà nel 25 però per il momento i mercati sono forti e c'è poco da fare chiudiamo col petrolio il petrolio qui è un tema caldo comunque a Trump perché lui vuole riportare comunque l'inflazione più bassa anche se poi vuole fare delle mire espansionistiche quindi diciamo che sono temi un pochino complessi e incrociati tra di loro però credo a un petrolio che possa essere un pochino più basso quindi in quest'area 66 67 90 credo che sia per il momento il prezzo più giusto per quanto riguarda il petrolio anche perché comunque l'inflazione è vero che è risalita un pochettino ma è sempre sotto controllo e comunque più bassa rispetto ai livelli di un anno fa è stata un'analisi lunga forse anche troppo però abbiamo visto veramente tutto vi invito a cliccare il link qui sotto per prenotarvi un check up gratuito con noi check up che costerebbe 500 euro vi dico la verità quindi prenotatelo è gratuito ne stiamo facendo veramente molti abbiamo aiutato veramente tanti investitori a trovare una quadra e a scalare velocemente magari quei soldi che sono fermi da parecchio tempo ok quindi cari amici ci vediamo poi nelle prossime settimane per le prossime analisi io vi ho raccontato un po' tutto per quanto riguarda Donald Trump presidente e tutti i temi che ci riguardano tra Europa America Cina che comunque vedrà tanta pressione sulla Cina visto che comunque i dazi potrebbero aumentare in percentuali importanti fino ad arrivare addirittura a un 60-70% quindi vedremo un po' quello che vorrà fare poi effettivamente Donald Trump e poi occhio sempre alla Corea che rimane anche lì un tema importante e pericoloso per quanto riguarda poi i due presidenti quindi ci sarà veramente tanta tanta roba da gennaio in poi anche se devo dirvi la verità secondo me Trump già in questi mese e mezzo non non si fermerà ma già inizierà a lavorare non alla Casa Bianca ovviamente ma ai suoi progetti per i prossimi quattro anni io vi mando un grande abbraccio e come sempre ci vediamo domenica prossima domenica prossima